Bene, ciao a tutti, io sono Umberto Bernasconi, la mia azienda si chiama Impronte d'Autore. Siamo un'azienda italiana nata molto tempo fa a Milano e ci occupiamo di fabbricare timbri in gomma. 25 anni fa ci siamo appassionati del mondo della creatività e abbiamo adattato la nostra produzione a questo mondo che naturalmente è rappresentato pienamente nella situazione fieristica dove ci troviamo ad Abilmente, a Vicenza. E noi fabbrichiamo timbri, quindi i nostri soggetti sono questi elementi che possono essere utilizzati dalle nostre clienti per creare decorazioni, per creare biglietti d'auguri, per creare partecipazioni, per creare anche oggetti tridimensionali che vengono utilizzati poi nei vari momenti della nostra vita, le bomboniere, gli inviti. Ora qui vi vorremmo mostrare alcune delle cose che noi facciamo e che praticamente dimostriamo alle clienti di Abilmente. Ciao, vi presento cosa possiamo fare con le nostre fustelle. Utilizzeremo la nostra nuova release, lo Yeti, per cui ho tagliato tutti i pezzettini di carta e li ho posizionati sulla macchinetta Big Shot. Faccio un bellissimo panino e giro e taglio tutti i pezzi disponibili. Ho ottenuto tutti i pezzi da legare insieme. Incollandoli otterremo questa borcina. Vi presento inoltre la nostra nuova rivista, appena uscita, con tutti i progetti e le istruzioni passo passo per realizzare i nostri progetti. Grazie.